Io approfitto, chiamerei subito Ivana Pais, che è docente di sociologia economica all'Università Cattolica di Milano e che io definisco la regina delle piattaforme, che non è, come dicevamo poco fa, dietro le quinte, il titolo di una nuova serie televisiva, lo dico a beneficio di Stefania Garassini, che potremmo farla questa serie, la regina delle piattaforme, ma è colei che in Italia, da più di dieci anni, da minorenne, da minorenne, diciamo che da generazione Z ha studiato la sharing economy, l'economia che si genera attraverso le piattaforme e adesso le diamo, le do la parola, perché possa raccontarci per la prima volta al pubblico la prima parte di questa ricerca è WePlat, o WePlat, come diciamo, a scelta, no, diciamo, WePlat, questa prima ricerca sulle piattaforme di welfare italiane. Ivana Pais. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Parto da qui, parto dal... Aspetta, faccio un passo indietro. No, è impossibile evitare l'accecamento, devo convivere con le luci. Parto da qui, parto dalla sharing economy, parto da dieci anni fa, più o meno, quando con Antonio e con altre persone dal pensiero, dalle pratiche solide, ci siamo incontrati proprio su questa questione dell'economia collaborativa. Andiamo alla slide dopo, dove riporto banalmente un'immagine della cosiddetta sharing economy, eccola lì. Ci siamo incontrati dieci anni fa con questa idea di sharing economy, economia collaborativa, e tante cose sono successe nel frattempo. Abbiamo provato a tradurre in italiano, in pratiche italiane, questa idea di economia collaborativa, di piattaforme collaborative. Oggi, dieci anni dopo, si parla in qualche modo di piattaforme cooperative. Di mezzo tra queste due immagini c'è stata la cosiddetta gig economy, cioè l'utilizzo delle piattaforme non per finalità collaborative, come in tanti avevano spiccato nel momento in cui le prime piattaforme digitali hanno fatto la propria comparsa, ma con finalità estrative e aziende che tutti noi ancora oggi conosciamo e che presentano anche molti limiti, per cui l'attenzione si è focalizzata sulla critica di queste piattaforme, anziché sull'individuazione di spazi, di esercizio, di possibilità. Sharing economy, economia collaborativa e economia cooperativa. Se posso, andando un po' con l'accetta, individuare i due grandi limiti delle interpretazioni che hanno accompagnato questi fenomeni, quando ha fatto la propria comparsa l'economia collaborativa, la sharing economy, c'è stato un eccesso di determinismo tecnologico. In tanti hanno detto che ci sono delle tecnologie che permettono la collaborazione e da qui nascerà un'economia della collaborazione. Oggi, quando parliamo di piattaforme cooperative o di platform cooperativismo, rischiamo di fare l'opposto. Cioè, quello che propone il platform cooperativismo è prendiamo le piattaforme estrattive così come sono, facciamo copia e incolla della tecnologia e sopra ci innestiamo una governance cooperativa. Ecco, prendere la tecnologia così com'è e pensare di innestarci una governance diversa non si incastrano proprio. E se dieci anni fa abbiamo sopravvalutato il potere dei dispositivi tecnologici nell'abilitare delle azioni conseguenti, oggi invece stiamo sottovalutando il ruolo che gioca la tecnologia stessa nell'abilitare, oppure no, alcune attività. Ecco, qui in mezzo, passiamo alla slide dopo, spazio per la collaborazione c'è ancora. Quello che forse dobbiamo abbandonare è l'idea di piattaforme che siano collaborative o che siano cooperative e andare a vedere le logiche che all'interno di piattaforme possono agire, che possono essere in parte collaborative, in parte no, andare a guardare dentro le piattaforme, dentro i dispositivi e vedere le logiche che abilitano. È quello che stiamo cercando di fare, passiamo oltre, con questa ricerca a cui faceva accenno che è una ricerca sulle piattaforme passiamo alla slide dopo, grazie che è una ricerca sulle piattaforme di welfare. Allora, due parole sul perché stiamo studiando le piattaforme di welfare. Primo motivo è che, accecati come sono io oggi o comunque con tutta l'attenzione concentrata sui rider, quindi sulle piattaforme di intermediazione di tutte le attività di delivery, nessuno, dal dibattito pubblico, anche all'interno dell'accademia, nessuno sta studiando tutte le altre piattaforme che intermediano lavoro. Ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi lavori che vengono oggi intermediati attraverso piattaforme e tutti guardiamo solo i rider. Questa è un po' una miopia collettiva, a mio parere, che è dettata in parte dal fatto che abbiamo bisogno che ci circolino per le nostre strade delle persone con giacche colorate per decidere di prestare attenzione ad alcuni fenomeni. Se questi fenomeni sono un attimo meno visibili, la pigrizia è sopravvento e quindi non li consideriamo, ma appunto tanto si muove. Allora, tutto quello che è rimasto fuori dai riflettori merita attenzione, dovendo limitare la mia attenzione a qualcosa perché non riuscivo a fare ricerca su tutto, ho deciso di studiare le piattaforme di welfare. Perché? Perché se il rider arriva sulla nostra porta, ci lascia la pizza e se ne va, quando stiamo parlando di una piattaforma che invece intermedia, per esempio, l'incontro con una badante o con una babysitter o con una psicologa, uno psicologo o con altre professioni di cura, beh, lì le persone non si fermano sulla soglia, ma le persone entrano nelle case e il fatto che il rapporto sia intermediato attraverso piattaforma incide anche sulla relazione. E quindi alle questioni che riguardano i rider si sommano tutta una serie di altre questioni che riguardano la relazione che si stabilisce tra professionista e cliente, paziente o persona che entra in relazione a quel punto con l'operatore intermediato attraverso piattaforma. L'altro aspetto che, insomma, mi ha portato a studiare questo settore è che se in tutti gli altri settori, in tutti gli altri ambiti, ormai abbiamo, passati dieci anni, abbiamo una piattaforma tendenzialmente nata nella Silicon Valley oppure adesso però è diversa la questione quella è nata in Cina, però qualcosa abbiamo anche di quella è nata in Cina che diventa monopolista o comunque si costruiscono degli oligopoli quello che sta succedendo oggi nel settore della cura è che non abbiamo ancora la multinazionale nata nella Silicon Valley che è arrivata in Italia e che ha costruito un monopolio rispetto a questo settore. Se pensiamo appunto a Abba, Dante, Babysittera qualcosa c'è ma sicuramente non hanno non siamo nella stessa situazione di altri settori quindi è un settore interessante da studiare perché siamo da un lato nella stessa situazione in cui eravamo dieci anni fa per altri settori oppure, quindi possiamo dire non sono ancora arrivate per fare dei nomi care.com che a livello mondiale insomma è una potenza o Amazon stessa che ha una situazione care che offre questi servizi in Italia non ci sono ancora allora possiamo dirci non ci sono ancora oppure questo settore ha delle peculiarità tali per cui forse si opera in modo diverso le logiche cambiano e sono diverse e poi vabbè ferma cambiamento è un settore questo in grande trasformazione per cui vedere l'impatto anche della digitalizzazione in questo settore è veramente interessante passiamo alla slide dopo allora vi anticipo un dato che vediamo dopo abbiamo fatto una mappatura delle piattaforme che ci sono in Italia che erogano servizi nell'ambito della salute fisica e mentale educazione e cura dell'infanzia e servizi socioassistenziali abbiamo trovato 127 piattaforme che operano in Italia in questi ambiti stiamo proseguendo la mappatura per cui potremmo trovarne altre però in linea di massima se non l'abbiamo trovata finora sono piattaforme online che devono erogare servizi per cui se non l'abbiamo trovata forse è una piattaforma quelle che non abbiamo trovato che non sono così visibili quindi presumo di aver trovato individuato tutte quelle più risposte 127 piattaforme che si distribuiscono in tre gruppi allora c'è un primo gruppo del welfare aziendale quindi piattaforme a cui accedono i dipendenti di un'azienda con fornitori selezionati quindi qui siamo un po' lontani dalla logica di piattaforma tradizionale completamente aperta dove sia chi usufruisce del servizio sia chi lo eroga va in piattaforma e cerca o offre il lavoro un meccanismo più di chiusura una forma intermedia è quella del welfare territoriale piattaforme che aggregano erogatori di servizi alla persona su un determinato territorio a cui accedono in parte cittadini a pagamento che vanno lì e trovano il servizio e usufruiscono del servizio in parte anche per accordi con per esempio gli attori e l'amministrazione pubblica locale possono accedere anche utenti che provengono dai servizi sociali quindi una forma ibrida interessante anche lato erogatore dei servizi dove in parte abbiamo gli operatori certificati accreditati appunto dal pubblico in parte invece abbiamo quelli che liberamente si candidano per erogare il proprio servizio e infine abbiamo le start up digitali più pure come modello quindi piattaforme digitali dove ci sono operatori che si iscrivono in piattaforma e con qualche meccanismo di selezione però offrono i propri servizi e clienti che vanno e scelgono l'operatore passiamo alla slide dopo eccoci qua allora iniziamo dal primo gruppo quello delle piattaforme di welfare aziendale e cerchiamo di capire che logiche collaborative ci sono o potrebbero esserci all'interno di queste piattaforme il primo risultato che abbiamo ottenuto da questa mappatura devo dire mi ha stupito molto è stato abbastanza sorprendente da un'altra ricerca noi sappiamo che ci sono un centinaio di provider di welfare aziendale in Italia ignoranza del settore perché sono studiosa di piattaforme non di welfare ho detto vabbè questo centinaio di piattaforme saranno tutte piattaforme da inserire nella mappatura dopodiché vado a vedere questo centinaio di piattaforme di welfare aziendale solo 26 offrono servizi alla persona quindi sono veramente poche le piattaforme che offrono di welfare aziendale che offrono servizi alla persona ma non solo il peso dei servizi alla persona anche in quelle 26 piattaforme di welfare aziendale che pure lo prevedono è molto limitato oggi nel welfare aziendale prevale ampiamente il rimborso per il carburante buoni per andare al supermercato o per andare in qualche catena poco più questo dipende da tante ragioni non abbiamo il tempo ora ad esplorarlo però in termini di potenziale questo è uno spazio importante anche perché il welfare aziendale il cosiddetto secondo welfare usufruisce legittimamente anche di incentivi e di supporti per cui capire come orientare questo tipo di attività è sicuramente importante si parlava prima di sensibilità ambientale delle nuove generazioni l'idea che ci siano degli incentivi dei supporti delle detrazioni per dare un buono carburante nel 2023 forse su quello dovremmo intervenire per ridurlo e invece incentivare tutti i servizi alla persona che possono passare da questo tipo di canale qui le possibilità di logiche collaborative qui dentro sono prevalentemente di due tipi uno farli passare da qui perché appunto al momento non transitano due un altro aspetto interessante è attraverso questo canale rafforzare l'analisi la lettura dei bisogni e dei desideri dei lavoratori che oggi legittimamente scelgono il buono carburante anche per pigrizia nel senso che è molto più veloce avendo diritto a un certo credito è molto più veloce spenderlo al supermercato che non per usufruire di servizi di cura alla persona su questo c'è uno spazio in cui si può fare veramente tanto e agire e questo probabilmente è uno spazio su cui lavorare prossima slide se passiamo quella dopo welfare territoriale ecco welfare territoriale sono queste piattaforme al momento sono 28 quelle che abbiamo mappato di cui fanno riferimento in larga misura 16 a una rete promossa da un consorzio di cooperative il consorzio cgm che ha promosso una piattaforma aggrega più canali e più piattaforme territoriali che cosa fanno queste piattaforme territoriali sono piattaforme appunto che insistono su un territorio se facciamo l'esempio delle piattaforme di cgmoving si chiamano tutte welfare x quindi welfare biella welfare sondrio welfare e le persone che risiedono in quel territorio andando su quella piattaforma possono trovare l'offerta dei servizi di cura alla persona quindi badante pulizie della casa quello che serve erogato dalle cooperative del territorio questa è un'operazione interessante più interessante del platform cooperativismo perché non parte dalla piattaforma così come e ci mette sopra la cooperativa ma parte da una logica di cooperazione e ci innesta la tecnologia e a quel punto l'aspetto interessante è capire se la tecnologia che innesta è la stessa che copia da là oppure se rispondendo a logiche diverse studiano e sperimentano delle logiche anche di piattaforma diverse che rispondono a dei bisogni diversi su questo devo dirvi si trova un po' di tutto vi faccio l'esempio più banale sistema reputazionale le stelline che sono proprio uno degli aspetti che contraddistingue la logica di piattaforma siamo tutti abituati sulle piattaforme al meccanismo reputazionale che abilita le relazioni tra le parti allora quando vado a intervistare piattaforme di welfare territoriale ma non solo che non hanno il sistema reputazionale mi trovo davanti a due risposte quando chiedo come mai non ce l'avete allora la prima risposta è ci arriveremo pian piano abbiamo fatto la nostra piattaformina l'ha fatta il cugino l'amico la cosa e quindi la prima risposta è ci stiamo provando ma c'è anche tanta improvvisazione in alcune piattaforme che ci stiamo facendo in casa perché una cosa che non vi ho detto è che dalle 127 piattaforme solo 11 sono multinazionali con sede quindi tutte le altre sono piattaforme italiane stiamo costruendo un ecosistema di piattaforme di welfare italiana quindi qualcosa improvvisazione che c'è e bisogna farci i conti perché poi questo crea anche qualche problema l'altra risposta che è quella più interessante è quando è così e quando c'è dietro del pensiero è abbiamo deciso di non mettere abbiamo deciso di non mettere le stelline perché noi eroghiamo servizi alla persona e per i servizi che facciamo noi il sistema reputazionale noi non siamo una stampante noi stiamo parlando di consulenza psicologica stiamo parlando di servizi alla persona e la stellina non funziona e allora però a quel punto la domanda dopo è che cosa sostituisce il sistema reputazionale e se non usi le stelline che cosa usi e che cosa sta nascendo come meccanismo alternativo che segue una logica di piattaforma malabilita in un modo diverso qui c'è tantissimo potenziale perché queste piattaforme territoriali possono abilitare delle relazioni nuove tra gli attori del territorio incluso l'attore pubblico ma anche tra gli utenti dei servizi un'esperienza che mi ha colpito molto siamo tutto stiamo muovendo i primi passi un'esperienza è stata di una di queste piattaforme territoriali che mi ha detto una cosa che stiamo facendo noi prima avevamo un servizio di dopo scuola che veniva erogato tramite cooperativa e i cui utenti erano esclusivamente i bimbi in carico al servizio sociale che avevano a quel punto accesso al dopo scuola come supporto prevalentemente bimbi provenienti da famiglie straniere che avevano bisogno di perfezionare l'italiano avere un supporto per l'italiano e loro dicono adesso che siamo andati in piattaforma a quel servizio di dopo scuola possono accedere anche dei cittadini che a pagamento decidono di usufruire di quel servizio e l'avere il privato che usufruisce di quel servizio è assolutamente win-win perché il cittadino usufruisce di un servizio che è certificato accreditato selezionato dal comune attraverso cooperative paga anche meno che non è poco se consideriamo il costo di questi servizi ma al tempo stesso il mio utente dei servizi sociali che si ritrova nella stessa classe con il bimbetto che arriva invece da un percorso di vita diverso beh si crea una classe più interessante quindi tutti si crea valore per tutti quando c'è una progettualità dietro questa ibridazione veniamo all'ultimo perché sto andando lunghissima come al solito welfare digitale ultimo slide e queste sono un mondo allora abbiamo individuato 73 piattaforme di welfare digitale che sono piattaforme di matching domanda offerta di servizi privati completamente a questo punto con professionisti che vanno in piattaforma fanno il loro profilo come lo conosciamo qui il sistema reputazionale molto diffuso però 39 su 73 non sono tutte cioè c'è però non è proprio lo standard in 42 il professionista che definisce il il compenso insomma noi ci approcciamo a queste piattaforme che sono piattaforme dove vai e selezioni la badante per restare sugli esempi che continuo a fare selezioni la badante selezioni la badisitter selezioni lo psicologo e la psicologa perché poi in larga misura sono donne tutte in queste professioni che vi sto raccontando e ci si aspettava una logica di piattaforma gig quindi un meccanismo che insomma conosciamo anche con tutti i limiti che conosciamo sorpresa qua dentro invece stiamo trovando cose interessanti stiamo trovando modelli che non sono il modello della gig economy stiamo trovando per esempio una piattaforma per badanti che è vero che non fa il contratto alla badante o al badante direttamente come uno diceva il modello no loro non fanno il contratto loro dicono come tante piattaforme di matching dicono noi facciamo solo il matching dopodiché però vanno a controllare che la famiglia e la badante o il badante abbiano stipulato il contratto e se scoprono che uno dei due ha chiesto all'altro di non fare il contratto dicono adesso continueremo l'esplorazione lo buttano fuori dalla piattaforma e questa è una cosa un po' diversa da quella che ci aspettavamo così come troviamo una piattaforma che fa servizi di consulenza psicologica che è una piattaforma come uno se la immagina dopodiché però lì dentro ha 2400 psicologi e quegli psicologi che tradizionalmente lavorano da solo nel loro studio di Olo semmai uno studio associato e interagiscono con due o tre persone improvvisamente si trovano all'interno di una struttura che è una struttura organizzativa perché sono divise in gruppi da 80 terapeuti che hanno una supervisione diretta una persona con cui confrontarsi che hanno colleghi con cui confrontarsi una burocrazia dentro la piattaforma e chi se l'aspettava la burocrazia dentro la piattaforma e questo è un mondo che permette apre a possibilità di logiche di comunità come ci accennava prima per Will e apre anche a possibilità per cui siamo ancora nell'ambito della possibilità di logiche cooperative nella gestione dei dati che sono il vero asset di queste piattaforme e in questo settore sono una questione delicatissima rispetto al quale c'è la possibilità di immaginare delle strade alternative rispetto ai meccanismi estrattivi che conosciamo in altri settori chiudo qui perché sono andata lunghissima e niente se volete seguire la ricerca noi continuiamo a lavorarci e se avete anche qualche input da darci noi l'accogliamo volentieri grazie 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 grazie